Per ReteZero, Sebastiano Bianchieri, ci troviamo all'interno del palazzo assessorile di Cless, che è una dimora, un edificio di epoca medievale. Questo palazzo ed edificio è stato costruito intorno al Quattrocento, accanto a una preesistente torre del 1200. Ci troviamo appunto a Cless, la dimora è appartenuta all'omonima famiglia Cless, siamo in Cless quindi in Val di Non, Trentino. E nei locali di questo splendido edificio di epoca è allestita una rassegna dal 5 di luglio al 28 di settembre, che racchiude circa 500 opere d'arte che rappresentano burattini, pupi, marionette d'epoca racchiusi in circa quattro secoli di storia. Siamo in compagnia dell'ideatore e curatore del progetto. Questa rassegna è titolata Buratto, fili e bastoni. Di cosa si tratta? Marcello Nebel. Buratto, fili e bastoni è una mostra dedicata appunto al teatro di figura. Abbiamo oltre 500 pezzi provenienti dalla principale collezione di marionette, burattini e pupi italiana, che è la collezione Zanella Pasqualini del Museo di Budrio, in provincia di Bologna. Abbiamo le principali famiglie di burattinai e marionettisti italiani rappresentate in mostra, quindi dai colla ai lupi, per quanto riguarda i grandi marionettisti, a grandi pupari come Donna Peppa, per esempio. E abbiamo pezzi veramente rarissimi e antichi. Pensiamo, abbiamo un Carlo Magno del 1587 di Pietro Datelin, abbiamo le marionette di Carlo Goldoni, come l'arlecchino appunto di Carlo Goldoni, quindi pezzi assolutamente rarissimi e importanti. Questi pezzi sono associati ad opere d'arte contemporanea, quindi una caratteristica della mostra e delle mostre estive Palazzo Assorile è proprio quella di associare a pezzi, diciamo, di alto artigianato artistico, di antiquariato, opere d'arte. Quest'anno abbiamo, al primo piano del Palazzo, appunto, esposte delle opere di artisti del Novecento, tra cui Andy Warhol, Kate Haring, quindi artisti di fama assolutamente mondiale, che sono collegate al tema del teatro di figura. Inoltre, una ventina di artisti italiani, molti dei quali docenti a Brera e all'Albertina di Torino, hanno creato delle opere apposta, opere a tema, quindi dedicate a questo tipo di arte, quella del teatro dei burattini e delle marionette. Marcello, che cosa rappresentava la figura del burattinaio? Nel nostro immaginario di bambini, soprattutto, la figura del burattinaio era accostata a questi racconti fantastici, magici, e noi vedevamo, appunto, il burattinaio, il puparo, come dicono in Sicilia, come qualcuno che ci faceva sognare, ci faceva immaginare, oltre la stessa fantasia. Chi era? Effettivamente, se è vero che la figura del burattinaio è nata in Sicilia e poi si è espansa, magari, in tutto lo stivale, oppure non è proprio esattamente così? Innanzitutto, il burattinaio, in generale, era una figura assolutamente principale all'interno della società, perché era la voce del popolo, quindi parlava con il sentimento del popolo e era, diciamo, all'interno della società un elemento fondamentale. Ma il burattinaio non è nato in Sicilia, il puparo sì. Allora, il puparo è, diciamo, l'attività del puparo è un'attività prettamente, non solamente siciliana, ma anche napoletana, comunque legata al Regno delle Due Sicilie. Si sviluppa nell'Ottocento e si sviluppa attorno, diciamo, per decantare quelli che erano tutti i temi dell'epica, dell'epica da un lato carolingia e dell'epica legata alle guerre in Terra Santa. E quindi si rifacevano all'Orlando innamorato, all'Orlando furioso, a tutta la narrativa cinquecentesca che aveva come paladini molti re provenienti proprio dalle regioni meridionali. E i pupari hanno cantato queste storie, le storie, le gesta di questi eroi e le hanno fatto principalmente in Sicilia, come dicevo, in Campania. Il burattinaio, quindi chi lavorava inguantando il burattino dal basso verso l'alto, è sì una caratteristica, diciamo, non solamente italiana ma anche mondiale. Per quanto riguarda l'Italia si sviluppa soprattutto in Emilia-Romagna e in Toscana e in alcune zone della Lombardia. C'è poi una terza figura, quella del marionettista. Quindi queste figure sono, diciamo, in parte diversificate. E il marionettista che lavora, qui dietro di noi abbiamo alcuni esempi di marionette, che lavora dall'alto verso il basso, muovendo, imbracciando, diciamo così, la crociera e con l'altra mano muovendo i fili, opera soprattutto nelle grandi metropoli italiane, nelle grandi città. Torino, Milano, Venezia e Roma. Questo a partire già dal 1500. Lo faceva all'interno di veri e propri teatri, in cui dedicati alla nobiltà e non al popolo. Quindi il burattinaio è la voce del popolo. Il marionettista, no, il marionettista è la voce della nobiltà. Il marionettista rappresentava anche vere e proprie opere. Quindi all'interno dei teatri di marionette c'erano orchestra, c'erano cantanti lirici e si rappresentava. Noi abbiamo un pezzo con la Geisha della Madame Butterfly, si rappresentavano opere di questo tipo. Quindi opere anche di Puccini, la Madame Butterfly. Noi abbiamo un pezzo di Podrecca che è stato il soggetto di un film del 33, un film americano, I am Suzanne, dove c'è lo stesso Toscanini che dirige la Madame Butterfly e la marionetta che abbiamo qui in mostra, che chiaramente canta. Abbiamo una cantante lirica nascosta e la marionetta è il protagonista, è il soggetto del protagonista. Quindi diciamo siamo veramente in presenza di figure di eccellenza, sono opere veramente d'autore che hanno rappresentato uno spaccato di storie, appunto, contrapposizioni addirittura di censo, di ceto, fra appunto le figure appunto che in qualche modo rappresentavano le culture più diverse. e Marcello, noi ci troviamo all'interno di un palazzo unico, fantastico, che ha rappresentato per molti secoli la nobiltà della valle, la nobiltà locale. Chi era l'assessore? Adesso per noi l'assessore è chiaramente una figura politica, amministrativa, all'epoca si amministrava la giustizia, era diciamo probabilmente il diretto discendente del principe vescovo, è così? Sì, l'assessore è una figura molto particolare, che è unica per quanto riguarda il principato vescovo di Trento, una figura che è nata attorno al Cinquecento e era il vicario del principe vescovo. Noi qui in Trentino appunto siamo in una zona che fino all'Ottocento faceva parte del Sacro Romano Impero di Germania e era lo stato più meridionale del Sacro Romano Impero di Germania. Era appunto un principato vescovile, un principato che quindi aveva legami molto forti con l'impero e allo stesso tempo col papato anche, e vedeva appunto il principe vescovo come governatore di questo principato stesso. Il principe vescovo all'epoca stava a Trento, risiedeva a Trento, non poteva spostarsi continuamente in tutte le valli, perché chiaramente ora da Clessa a Trento in tre quarti d'ora di macchina ci arriviamo, ma all'epoca il viaggio era di un giorno, un giorno e mezzo. La zona, la valle di Nonneclese, erano molto importanti già anticamente e di conseguenza il vescovo ha deciso di mettere una figura di fiducia a governare tutta la zona e quindi qui è nata questa figura dell'assessore che era un vero e proprio vicario del principe vescovo e amministrava non solamente la giustizia ma anche tutte le altre attività per il principe vescovo stesso. risiedeva fino al 600 in diverse sedi, anche altri palazzi della valle e anche di Clessa sono stessi sedi di questo assessore, ma dal 1650 in poi questo palazzo è divenuto ufficialmente la sede dell'assessore della valle di Nonneclese e di Sole fino all'epoca napoleonica, quindi fino al 1804 circa. e per questo si chiama tuttora palazzo assessorile, perché qui per circa tre secoli l'assessore aveva la propria sede, la cosa principale che faceva era si amministrare la giustizia e per questo in questo palazzo fino agli anni 70 erano attivi delle prigioni. Ecco parliamo di come si sviluppa il palazzo, i vari piani, dal pieno terra al secondo piano io ho visto degli affreschi fantastici, motivi mitologici, biblici, veramente di assoluto valore ecco parliamone. Il palazzo ha una storia molto lunga, nasce attorno al 1000 come torre di difesa nel 1200 questa torre viene ampliata e i documenti si dicono che era di proprietà della comunità e la comunità ci stivava le derrate alimentari all'interno di questa torre che era una torre appunto sia per la conservazione delle derrate alimentari sia una torre di guardia di quello che era un incrocio molto importante all'interno della borgata e questa torre nella seconda metà del 300 viene acquistata dalla famiglia Cless la famiglia Cless era una famiglia di cavalieri molto importante che tuttora, adesso loro hanno il titolo di baroni e sono una delle famiglie più longeve e con la storia più lunga fra quelle europee nobili perché è una famiglia che è già citata nei primissimi anni del 1000 quindi da più di mille anni che esiste e tuttora possiede il castello che c'è a Cless il castello dei signori di Castel Cless che è a circa un chilometro da qui questa famiglia appunto nel 300 acquisisce questo palazzo che quindi diventa la sede urbana della famiglia e questa torre viene ampliata, diventa il palazzo che noi vediamo ora questo diciamo nella metà del 400 nel 1482 Giorgio di Castel Cless che era il capitano delle valli di Nonne di Sole e assessore delle valli, quindi era la figura di spicco di tutta la zona fa frescare la facciata con quel grande stemma Cless del 1482 con i due angeli che sorreggono lo stemma e il suo ritratto è quello della moglie sotto il poggiolo quello è un affresco molto importante della scuola di Leonardo di Bressanone la stessa famiglia dei Cless nel 500 decide di fare di questo palazzo una importante residenza rinascimentale questo anche sotto la spinta di Bernardo Cless Bernardo Cless è l'esponente principale della famiglia Cless è principe vescovo di Trento, è cardinale è soprattutto cancelliere del Sacro Romano Impero di Germania quindi è la Merkel del 500, Bernardo Cless consigliere di Massimiliano I, forse che era l'imperatore quindi figuriamoci a che livelli siamo sì, consigliere prima di Massimiliano e poi di Carlo V primo ministro quindi, cancelliere si veniva chiamato cancelliere supremo addirittura all'epoca al suo ruolo quindi una figura assolutamente di primo piano che ha posto le basi per il concilio di Trento lui il concilio di Trento non lo vedrà perché morirà nel 39 quindi morirà prima e lo porteranno avanti in madruzzo ma lui porrà le basi per il concilio di Trento fatto sta che la famiglia all'epoca era potentissima e quindi la famiglia cosa fa? restaura il castello e restaura anche questo palazzo questo palazzo viene restaurato e viene soprattutto affrescato da maestranze che erano attive a Trento e nei principali palazzi di Trento quindi qui nel Palazzo del Sorile lavora Marcello Fogolino lavora la bottega di Dossodossi lavora il Domenico Riccio detto il Bursasorci tutti i grandi artisti del secondo rinascimento che scappati dal sacco di Roma nel 1527 lavorano in Nord Italia prima a Mantua e Ferrara poi si spostano anche in Trentino quindi abbiamo la sala il secondo piano del palazzo e il terzo piano del palazzo che sono quasi interamente affrescati nel 1543 per l'esattezza da queste maestranze vi sono affreschi che soprattutto cercano di esaltare la casata dei cless quindi ci sono gli stemmi dei cless dappertutto ci sono figure mitologiche ci sono scene che richiamano poemi epici, poemi omerici questo per esaltare la cultura dei cless che vogliono farsi vedere come chiaramente grandi principi rinascimentali e abbiamo poi degli affreschi completamente diversi nell'ultimo piano di scuola tedesca e rappresentanti scene bibliche questa è una cosa particolare perché tra l'altro scene bibliche che sono la copia di una Bibbia luterana che circolava all'epoca nel Sacro Romano Impero di Germania questo vuol dire probabilmente che la Sacro e Profano Riforma e Contro Riforma insieme Sacro Profano e Riforma e Contro Riforma abbiamo da un lato Bernardo Cless che chiaramente lavorava e operava contro i luterani ma abbiamo Anna Volkenstein moglie di Aliprando Cless quindi parente molto stretta di Bernardo Cless che si fa affrescare una Bibbia luterana in questo palazzo quindi cose molto particolari quasi blasfema per l'epoca assolutamente però dà l'idea che questa Anna Volkenstein moglie dell'Aliprando Cless abitante qui nel palazzo fosse una persona molto molto ricca e potente tanto che l'ultimo piano del palazzo quello in cui siamo attualmente era il suo appartamento privato l'appartamento di Anna vi è una sala in questo piano completamente affrescata con il nome Anna che ritorna più volte c'è il suo nome quindi l'esaltazione della sua persona ma poi vi sono delle scene epiche di esaltazione della donna questa è una cosa molto particolare perché l'esaltazione della donna a quell'epoca chiaramente era un altro tabù era molto rara e era tollerata solamente nei grandissimi casati e nelle grandissime città rinascimentali italiane pensiamo a Ferrara pensiamo a Orbino pensiamo a Mantua sono gli unici casi in cui c'è l'esaltazione Isabella d'Este eccetera eccetera c'è anche il caso diciamo più provinciale qui a Cless di quest'Anna Volkenstein come grande personaggio rinascimentale che si fa esaltare e si fa vedere di fronte a tutti gli altri come persona di cultura come persona che ha lo stesso rango la stessa importanza del marito vi è una scena di caccia rappresentata in cui Anna Volkenstein è al centro affiancata dal marito a Lippe Rando Cless e è del fulcro di tutta la rappresentazione di questa scena di caccia in cui vi è tutta la corte attorno ai due coniugi e qui appunto viene esaltata la donna e questo è un caso assolutamente raro per una zona provinciale come la nostra è un caso che attualmente si sta studiando moltissimo perché tra l'altro questi affreschi dedicati a Anna Volkenstein sono stati riscoperti nel restauro del 2009 quindi tutta questa cosa tutta questa storia queste scoperte su Anna Volkenstein sono scoperte molto recenti che la sovrintendenza sta studiando in questo momento Marcello un'ultima ci stiamo approssimando al termine di questa di questa intervista fra poco vedremo appunto le sale e gli affreschi che tu ci hai illustrato parliamo un attimo appunto di questa ultima di questi ultimi restauri che sono recenti che sono appunto stati effettuati sotto la direzione della sovrintendenza delle belle arti diretti da Nicolo Rasmo che valore hanno e che cosa hanno innovato rispetto appunto ai restauri precedenti che condizioni stanno rispetto a prima le sale del palazzo il palazzo è cambiato completamente nell'ultimo restauro allora tu citavi Rasmo è corretto Rasmo ha diretto il restauro ma non quest'ultimo ha diretto il restauro degli anni 60 che è stato un restauro che ha dato ha ripulito gran parte degli affreschi e ha ridato vita all'epoca al palazzo il restauro del 2009 sto diretto dalla sovrintendenza e ha dato una luce ulteriormente nuova al palazzo stesso perché si è rimesso mano a quello che aveva fatto Rasmo negli anni 60 migliorandolo ulteriormente da un certo punto di vista ripulendo ulteriormente gli affreschi e quindi facendo un altro salto di qualità ma la cosa più importante che è stata fatta in questi restauri è stato liberare il palazzo dalle prigioni allora l'ultimo piano del palazzo era quello in cui siamo attualmente era occupato da decine di prigioni di celle queste celle erano celle antiche tra l'altro erano celle seicentesche appartenevano all'assessore che abbiamo nominato prima e queste celle andavano a coprire completamente gli affreschi che noi ora vediamo gli affreschi sono stati scoperti tramite appunto degli studi fatti propedeutici al restauri fatti preventivamente al restauri del 2009 sono stati scoperti questi affreschi all'interno delle celle affreschi molto importanti tanto importanti che la sovrintendenza ha deciso di fare una cosa molto importante perché è una scelta anche molto difficile da fare ha deciso di cancellare tutta la storia del palazzo diciamo la storia più recente quella degli ultimi tre secoli quindi il palazzo come sede anche di prigioni le prigioni sono state tolte diciamo così nel restauro ma attenzione sono state conservate le antiche porte conservate le antiche inferriate e sono state poste nel tribunale che c'è attualmente di fronte al palazzo del Sorile e diciamo questo piano con le celle è riportato al periodo cinquecentesco al periodo di Anna Wolkenstein la scelta fatta nel restauro è stata quella di riportare il palazzo al cinquecento quindi al momento diciamo più importante della sua storia quindi il restauro l'ultimo restauro l'ha riportato al 1543 noi come se vedessimo il palazzo chiaramente mancano gli arredi però dal punto di vista architettonico e per quanto riguarda gli affreschi anche artistico vediamo il palazzo poco dopo i lavori diciamo degli affrescatori che sono stati qua in quel periodo nel periodo rinascimentale stiamo per visitare appunto i piani del palazzo soprattutto appunto il terzo piano che forse da quello che tu dici è quello più significativo in qualche misura quindi adesso ci avviamo ecco un'ultima domanda prima di determinare chi erano i prigionieri erano prigionieri per così dire politici soprattutto erano prigionieri scomodi si intravedono si vedono chiaramente anche delle incisioni fatte su legno anche sulle messe o fresche si può dire credo chi erano questi prigionieri era l'epoca della caccia alle streghe tra l'altro quindi erano nel tempo delle inquisizioni chi erano? sì da un lato si sa poco sui prigionieri rinchiusi dentro del palazzo dall'altro come dicevi tu giustamente pare proprio e questo lo sta confermando la sovrintendenza che questo fosse un carcere politico perché il numero di iscrizioni lasciate dai prigionieri e la qualità di queste iscrizioni dal punto di vista sintattico grammaticale ma dal punto di vista anche estetico talmente alta da far pensare appunto a carcerati di alto rango qui venivano rinchiusi probabilmente nobili venivano rinchiusi borghesi venivano rinchiusi artisti letterati ma anche pittori ci sono anche iscrizioni lasciate da pittori imprisionati questo già alla fine del Cinquecento quindi pare che i clessa abbiano abbandonato o venduto più che abbandonato il palazzo della comunità già nella seconda metà del Cinquecento quindi hanno frescato il palazzo nel 1543 l'hanno fatto diciamo grande sede rinascimentale all'interno del paese della cittadina di Clesse e già nella seconda metà del Cinquecento l'abbiano abbandonato comunque rivenduto alla comunità e la comunità l'abbia fatto appunto sede di prigione e poi dell'assessore perché le iscrizioni più antiche della città dei prigionieri sono già della fine del Cinquecento appunto questo pittore lascia tale Zitterlin lascia una iscrizione appunto del fatto che lui sia rimasto rinchiuso all'interno del carcere nel 1596 e le iscrizioni sono moltissime vanno appunto dalla fine del Cinquecento fino ai primi dell'Ottocento sono di qualità altissime e fanno pensare appunto a un carcere politico grazie Marcello per questa splendida testimonianza ringraziamo Marcello Nebel che è curatore e organizzatore e curatore del progetto ideatore organizzatore della mostra e andiamo appunto a visitare queste splendide sale del palazzo grazie 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 a voi grazie siamo all'interno di una delle sale principali del palazzo una sala appartenuta a Anna Volkenstein moglie di Aliprando Kless questa è una sala molto importante faceva parte del suo appartamento privato è una sala molto importante e particolare proprio perché qui c'è l'esaltazione in un periodo come quello quindi parliamo del 1543 un periodo così lontano l'esaltazione della donna della figura femminile in basso la sala è caratterizzata da un finto tessuto affrescato in cui compare il leone simbolo della famiglia Kless e la scritta Anna la parola Anna che tra l'altro è affrescata in una maniera incredibile pare un logo moderno pensare appunto che quella scritta a 500 anni ha dell'incredibile in alto la sala è affrescata con delle scene molto importanti molto belle di Marcello Fogolino che esaltano il ruolo della donna qui siamo di fronte a una scena di caccia in cui il corteo della famiglia Kless è imperniato sta tutto attorno alla figura dei due coniugi Kless quindi a Liprando da un lato ma a Liprando è un po' in secondo piano in primo piano abbiamo proprio lei abbiamo Anna Volk che sta in a cavallo che appunto muove tutto il corteo è un affresco quasi in bicromia anzi è quasi un monocromo questo qua molto bello e fa pandan con altri affreschi all'interno di questa sala in cui viene sempre esaltata la figura femminile quindi abbiamo la Diana cacciatrice abbiamo dall'altra parte un affresco molto particolare in cui vi sono invece delle amazzoni che combattono quindi l'esaltazione anche qua della figura femminile nella sala inoltre dei medaglioni con figure di imperatori e imperatrici e pare anche il ritratto della stessa Anna Volkestein questi sono affreschi che sono conservati perfettamente anche perché fino al 2009 di fatto erano riparati da una controparete che era stata creata probabilmente nel 700 per creare le celle per creare le prigioni quindi le prigioni avevano questa caratteristica di essere diciamo foderate con una controparete in legno che di fatto ha salvato questi affreschi che di fatto un'esalti